Ben trovati, è martedì 4 gennaio ancora insieme al nostro oroscopo quotidiano. Oggi è San Ermete, la saggezza ci ricorda che anno nevoso è sempre fruttuoso. Pronti con l'oroscopo? Ariete, non continuate a riempirvi di dubbi sui motivi che hanno portato qualcuno ad una scelta diversa. Vi converrebbe a questo punto affrontare il problema fino in fondo e chiarirlo proprio con quella persona. Sarà l'unico modo per capire se vale la pena soffrire. Un po' di tensione nervosa, state più calmi. Toro, oggi tenderete a fare un bilancio della vostra condizione economica. In effetti potete contare su una situazione di tutta stabilità. La serata si presenta sotto buoni auspici sia per chi cerca avventure, sia per chi vive una situazione d'amore ormai stabilizzata. Gemelli, è vero, forse avevate tutte le ragioni di questo mondo per agire così, ma alla fine i vostri chiarimenti non sono stati accettati. Stasera evitate di rintanarvi in casa, di isolarvi. Trovate qualcuno che vi aiuti a smuovervi dall'apatia nella quale vi siete rinchiusi. Cancro, sarete apprezzati per la vostra precisione nel lavoro da una persona che potrebbe procurarvi in un futuro prossimo impegni molto più indipendenti. E visto e considerato che è ciò che da tempo desiderate, la cosa vi lusingherà moltissimo. Non fate vedere però la vostra eccitazione, cercate di avere un certo self-control. Leone, se ci sarà un errore nel lavoro non correte subito alla caccia del colpevole, non ne vale la pena. Una parolina gentile sarebbe più adatta alle circostanze. Chiudersi in casa per evitare le chiacchiere può essere una buona idea, meglio però sarebbe trovare qualcuno con cui potersi confidare liberamente. Vergine, anche oggi riuscirete a svolgere una grossa mole di lavoro in pochissimo tempo. La vostra vitalità risulterà trascinante nel vostro ambiente lavorativo. Stasera vi sentirete particolarmente attratti da chi, al contrario di voi, se ne sta seduto in un angolo e tace. Attenti a non travolgerlo. Bilancia, evitate comportamenti aggressivi perché oggi non vi sarebbero proprio perdonati. La grinta, a volte se usata in maniera erronea, porta solo scompigli ed antipatie, perciò moderatevi. Scorpione, ottime opportunità si intravedono per voi nel corso della giornata. Sarete comunque dotati di una dose di fantasia notevolissima. Varebbe la pena sfruttarla a vostro vantaggio, rendendola concreta. Lasciate pure agli altri il compito di organizzare la serata. A voi il piacere di viverla. Sagittario, vi sentirete molto tesi anche a causa di un senso di stanchezza fisica. Il lavoro che vi verrà affidato vi sembrerà più complesso di quello che realmente è, solo perché non riuscite a concentrarvi come dovreste. Una boccata d'aria potrebbe stimolarvi un po'. Dedicate la serata al riposo. Capricorno, fidatevi dei consigli di una persona che da tempo conoscete. Sapete bene che è sincera e se vi indicherà un certo tipo di comportamento in quella situazione, seguitelo fiduciosi. Cedere alle lusinghe di quella persona sarà questa sera facilissimo. Difficile capirne le motivazioni, quelle cioè che la spingono ad essere così. Aquario, qualche disguido potrebbe condizionare negativamente l'intera giornata. Cercate di liberarvi dai sensi di colpa per l'eventuale errore commesso e trovate velocemente un rimedio. Datevi da fare per avvicinare questa sera una persona che vi interessa. Pesci, ci saranno in vista ottime opportunità di nuovi sviluppi nel lavoro. Cogliete al volo ciò che la fortuna vi prospetta. Potreste incontrare stasera persone molto interessanti con le quali discorrere di argomenti per voi nuovi. Conoscerete un nuovo mondo di idee.